Poliziotto privato, un mestiere che è salato come un barattaro d'acciughe. Io squaglierei. Prendi un aereo, pianta baracche, pulatini e scompari. Non posso più ormai, ci sono troppo dentro. Un mestiere come un altro. Robert Mitchell e Larry Quinlan. Poliziotto privato, un mestiere difficile. Domani sera alle 20.30, su Italia 1. Permettete? La Baccher è lieta di offrire a tutti i telespettatori che ne faranno richiesta non uno o due, ma mille fiori diversi. Tutti fotografati nel suo ricchissimo catalogo di bulbi e piante olandesi da comprare per posta, a prezzi speciali. Allora, se permettete, ve lo spediamo a casa. Scriveteci il vostro nome su una cartolina postale e ve ne impediremo uno fresco di stampa. di Valverde, la moda ai tuoi piedi. LUCI